E la materia prima per eccellenza a Mantua per fare la mostarda, eccola qua, la mela campanina. Che mela è questa per voi? Per me è una mela che mi sono ritrovato a vivere assieme a questa mela, perché mio padre le ha piantate quando sono nato io, però in realtà quando le ha piantate mio padre e le altre persone si mettevano a ridere perché era una cosa controcorrente, nessuno piantava le mele campanine, anzi le estirpavano perché stavano passando di moda. In che anni eravamo? Si parla di 40 anni fa. Ma la mela campanina ha una storia ancora più lunga dell'età del nostro amico Marco, perché pensate che di questo frutto se ne parlava già ai tempi dei Gonzaga. Sì, si ha notizie della mostarda mantuana fino dai tempi dei Gonzaga. A Mantua la mostarda è nata con la mela campanina. Perché è una mela adatta alla mostarda? Beh, ha una polpa bella soda, croccante. Una volta le mele, non c'erano le celle frigorifere, si usavano le mele che duravano. Se le mettevano dalla parte, se le mettevano nel granaio. Un sistema che tu hai deciso di tornare ad adottare? Sì, sto copiando quello che facevano i nostri nonni sulle aie. Una volta mettevano la paglia sull'aia e li distendevano sulle mele verdi. Dopo diventano rosse nel giro di 3-4 giorni con l'ausilio del sole. Quando è come una persona che va in spiaggia, che è un ragioniere che è abituato a stare in un ufficio, pian pianino si abbronza nell'arco di 3-4 giorni, si abbronza. Bisogna stare attenti a non scottarsi, anche qua, perché non solo il ragioniere, ma anche la mela si può scottare. Tu quante piante hai? Sono più di mille, divise in un ettaro e mezzo. Parlo sia dell'impianto nuovo, sia delle piante vecchie che aveva messo di mura mio padre 40 anni fa. Si usa solo per fare la mostarda mantovana? Beh, diciamo che il prodotto più famoso per la mostarda mantovana, l'uso più famoso è questo, però è molto buona anche da mangiare. E poi dopo va benissimo anche per tutti gli altri preparati, torte di mele, marmellata di mele. Bisogna anche considerare che una ricerca recente ha fatto notare che la mela campanina ha dei poteri antiossidanti superiori di 4 volte rispetto alle mele moderne. E noi, partendo da questa... Magari questa no. Partendo da questa mela, andiamo a capire come nasce la mostarda, prodotto tipico mantovano. Grazie Paolo. Prego. Finisco. Grazie. 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 Grazie.